Una distesa di lenzuola bianche sulla spiaggia della nostra costa, simbolo del fallimento di un'umanità che non sa accogliere e aiutare e non riesce più a proteggere gli esseri più fragili bambini. Aggrappati al seno delle mamme, strappate alle braccia dei papà, anche oggi è morta l'innocenza tra le decine di migranti che hanno perso la vita scappando da miseria, guerra e violenza, mentre cercavano un futuro migliore e invece hanno trovato la morte. Non ci sono parole per esprimere il dolore e il cordoglio di questa tragedia e quanto afferma il presidente di Unicef Calabria, il dottor Giuseppe Raiola. Dovremmo imparare dal silenzio e sostituire i proclami con le azioni, afferma ancora il comitato Unicef Calabria. La rotta del Mediterraneo centrale è intrapresa ogni anno da decine di migliaia di donne, uomini e bambini in cerca di salvezza a bordo di barche fatiscenti e diventata sempre più pericolosa e contraddistinta da un alto tasso di mortalità. Le persone in fuga da guerre, persecuzioni, carestie che tentano la traversata di questo mare sono sempre più esposte al rischio di morte a causa della progressiva scomparsa di entità internazionali governative e non governative dedicate al soccorso in mare. Questo è il momento del dolore e proprio davanti a questa tragedia i governi e l'Unione Europea devono assumersi la responsabilità politica di agire affinché non si continuano più i morti della migrazione e soprattutto da questi non ci siano bambini che continuano a pagare il prezzo più alto dell'incoscienza e della cattiveria degli adulti.